Benvenuti in questo primo episodio del 2023 di... Il film di cui parleremo oggi è Dead Sushi, e già dal titolo potete capire che tipo di film tratteremo oggi. Fortunatamente o sfortunatamente consigliato da alcuni di voi l'ho trovato su YouTube, in giapponese, con i sottotitoli in spagnolo. Non è che ci abbia capito poi così tanto dei discorsi dei personaggi, ma almeno, quantomeno, lo spagnolo è un po' simile all'italiano in qualche parola, in qualche frase, e dal contesto ho cercato un po' di riesumare il tutto. Come da titolo potrete capire che questo non è uno degli horror più seri al mondo. Abbiamo il sushi che torna in vita sotto forma di zombie, e non solo, perché attraverso i morsi, sì, gli uramaki e gli onigiri mordono in questo film, la persona vittima del morso viene soggiogata da questo potere del pesce crudo e del riso, e da siciliano potrei tranquillamente dire che si trasformano in delle arancine, o arancini catanesi che mi state ascoltando, vedetela voi, perché in poche parole vengono letteralmente riempiti di riso, che gli esce da tutte le parti. In questo video, che credo appunto duri abbastanza poco, non voglio fare spoiler, perché in qualche modo vorrei consigliarvi di vedere il film, sempre se riuscirete a capire lo spagnolo, i sottotitoli in spagnolo, perché il film è appunto giapponese, ma anche senza capirlo penso che vi divertirete comunque, perché effettivamente è un film divertente, per quanto volutamente stupido. La premessa è già quella, comunque i giapponesi se la cavano a fare questo tipo di cinema, e devo dirvi che, sempre vedendola sotto un punto di vista nipponico, non è nemmeno diretto male, perché ci sono alcuni combattimenti, sì, è un horror in cui ci sono combattimenti in stile, scusate ragazzi, non so, sicuramente sbaglierò arte marziale a cui mi riferisco, ma karate, o più fuse assieme, non sono un esperto di arti marziali, quindi non voglio pronunciarmi più di tanto. Però la protagonista, che viene rifiutata dal padre perché non riesce a fare il sushi, nel modo esatto in cui dice lui, ovvero attraverso appunto le arti marziali, è obbligata in qualche modo ad andare a lavorare come cameriera, e non solo in realtà, vedremo poi perché appunto le cameriere lì non servono solo a quello, e tutto un tratto appunto si trova in mezzo all'epidemia dead sushi, zombie sushi, come volete chiamarla. Gente che muore di qua, gente che muore di là, gente che non sente il sushi che inizia a mordere la lingua fino a staccarla, vabbè, lasciamo perdere. Parte tutto però da questa seppia, maledetta da un barbone, ma non vi dico esattamente chi è questo barbone, perché appunto sarebbe spoiler, e non voglio farne spoiler andata a vedere dead sushi, sperando di trovarlo ancora su YouTube, almeno mentre registro, c'è. E ripeto che appunto le scene di combattimento che sono presenti nel film a più riprese, sono dirette molto bene, e sono soprattutto divertenti, vedendola sempre in modo ironico, perché sì, è un film horror, ma più che horror è demenziale. Anche nelle stesse scene horror, in cui la piovra combina roba con la faccia di un tizio, un uomo viene decapitato, e succede una cosa in una spa, nel film c'è anche qualche pop asiatica, che non fa mai male comunque, ma la cosa che mi ha stupito di più, perché non sono un fan del cinema giapponese o asiatico in generale, e quindi non ne ho visti tantissimi, e per lo più quelli recenti, la cosa che mi ha stupito è appunto l'utilizzo degli effetti pratici in questo film, che sono a dir poco schifosi, nel vero senso della parola, cioè sono positivamente schifosi, perché devono esserlo schifosi. Quando invece vengono utilizzati effetti visivi, quindi CGI se così vogliamo chiamarla, un green screen per lo più non è che abbia bisogno di CGI, ma mi è sembrato che ogni tanto qualche pezzetto di sushi qua e là viene realizzato con la computer grafica, ecco, in quel campo non è che se la cavino più di tanto. Però gli effetti pratici, come per esempio il del ramen, che esce da un orifizio che non dovrebbe esistere, oppure un mascherone di un pesce che, non spoilerò a cosa serva, tutto questo è realizzato davvero in modo schifoso. Ed era quello l'obiettivo. Personalmente non sono un fan del sushi, non mangio sushi, e credo che dopo questo film non ne mangerò ancora di più. E non sto parlando dei vari denti che si trovano sotto il pezzo di salmone che si apre come una bocca e inizia a mordere. Ragazzi, parlando delle scene effettivamente mi viene da sorridere, persino ridere, perché è successo anche durante la visione. Ed è proprio per questo che vi consiglio di vedere Dead Sushi in questo primo episodio di Horror Month. Ripeto, non voglio assolutamente spoilerarvi come andrà il finale, perché in qualche modo è un film da recuperare nel suo genere, forse è anche diventato un cult con il tempo. È un film comunque relativamente recente, quindi la qualità non è nemmeno così orrenda, tralasciando appunto gli effetti visivi, ma sicuramente sarà dovuto a un budget non così elevato. Però ragazzi, guardate Dead Sushi. Nel complesso è un film che comunque potrei anche promuovere sotto il punto di vista horror demenziale di questo genere, perché alcune scene arrivano veramente agli eccessi, alcune sono veramente esagerate, e in certi casi non è una cosa che ho apprezzato, ma nella maggior parte sì, perché appunto è quello che volevo vedere da un film che si chiama Dead Sushi, con una premessa in cui sono presenti dei pezzi di sushi, dei assassini, zombie, possiamo chiamarli proprio zombie, e quindi, ripeto per l'ennesima volta, date una chance a Dead Sushi. Soprattutto se avete così il desiderio in certe scene di arrivare quasi a sboccare, perché a seconda delle fobie che una persona ha, alcune sequenze potrebbero proprio infilarsi nella testa dello spettatore, di chi sta guardando il film. Non è un film spaventoso a livello di jumpscare o mostri e robe varie, è per lo più un body horror. Non voglio sicuramente paragonarlo a Cronenberg o ad alcuni film di Carpenter, perché no. Nonostante questo, in un film così orientale, perché è orientale, la mano giapponese si vede tantissimo, ci sono alcuni elementi che possiamo trovare proprio nei film di questi due registi che adoro, citati prima, sia per le trasformazioni corporali, ma anche per roba che esce da degli orifizi. Basta, non dico altro. Direi assolutamente che possiamo chiudere qui il primo episodio di Horror Month del 2023. Il mio obiettivo questa volta è di concludere a tutti gli effetti il mese, l'Horror Month, con tutti i video programmati. Non voglio ancora svelarvi il prossimo film di cui parlerò con il secondo episodio, però credo che registrerò tutto già oggi, proprio per evitare di dimenticare o di non riuscire a registrare qualche uscita. Ma per adesso so solo che ci vediamo il 10 ottobre con la seconda uscita, e vi do anche un indizio sul film di cui parlerò. È un film strano, molto strano, non quanto questo Dead Sushi, è stato classificato come uno dei migliori film degli ultimi tempi, se non il migliore degli ultimi tempi, per quanto mi riguarda un po' esagerato, ma ne parleremo appunto la prossima settimana, il prossimo martedì, aspettando così il martedì di Halloween. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao! Andri, 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 andri. Andri, 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 andri. Grazie a tutti.